In occasione della giornata mondiale del diabete celebrata lo scorso 13 novembre, il Centro di Medicina Preventiva di Quarto ieri mattina ha promosso una serie di iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle complicazioni incontrate da chi soffre di tale patologia. Il Centro Antidiabete, presente con dei banchetti in piazzale Europa, ha inoltre offerto la possibilità di determinare gratuitamente i parametri glicemici e i valori della pressione arteriosa, nonché l'opportunità di individuare i fattori di rischio glicemico. Numerosi i cittadini che hanno scelto di sottoporsi allo screening. Soddisfazione è stata espressa dal dottor Tafuri, responsabile del Centro Antidiabete di Quarto, il quale ai nostri microfoni ha rimarcato l'importanza della prevenzione per contrastare una patologia che ogni anno nel mondo uccide 4 milioni di persone. Un giorno importante perché ancora una volta a Quarto abbiamo voluto testimoniare quanto la prevenzione sia fondamentale in tutte le malattie ma soprattutto in una patologia come quella del diabete. Per sensibilizzare il territorio e per avere la possibilità di fare un po' di screening ai cittadini di Quarto. Considerevole l'incidenza del diabete anche nell'area flegrea. A dispetto di statistiche solo apparentemente positive e per lo più falsate dalla scarsa propensione dei cittadini alla prevenzione. Come ci spiega il diabetologo dottor Salvatore Turco. L'incidenza è abbastanza elevata e bisogna considerare che i dati forniti sono espressione di un pericolo. Il diabete perché? Perché dai dati statistici presenti risulterebbe il 5% della popolazione affetta, qualche altro dato ci dice che siamo quasi al 7-7.1%. Ma la problematica più grave di questa patologia non è tanto la presenza di una così massa quantità di gente affetta da diabete e la presenza di un nascosto, di un subdolo perché ci sono tantissime persone, quasi altrettante quelle presenti, che hanno il diabete ma non sanno di averlo perché non si sono mai fatte un esame, non hanno mai portato a luce la presenza di questa malattia. L'auspicio dunque è che l'opinione pubblica comprenda l'importanza di una diagnosi precoce scelga finalmente la via della prevenzione.